Benvenuti al nostro Oroscopo del Giorno. Oggi, 31 luglio 2024, esploreremo cosa riservano le stelle per ciascun segno zodiacale. Segno Ariete. Oggi è una giornata ideale per incanalare la tua energia e il tuo entusiasmo in nuovi progetti. La tua intraprendenza e il tuo spirito avventuroso sono al massimo, quindi affronta le sfide con determinazione e coraggio. Non esitare a prendere l'iniziativa e a guidare gli altri con il tuo esempio. La tua leadership naturale ti permetterà di ispirare chi ti circonda e di ottenere risultati significativi. Mantieni un equilibrio tra azione e riflessione, prendendoti il tempo necessario per valutare le varie opzioni prima di prendere decisioni importanti. Il tuo ottimismo e la tua fiducia in te stesso sono le tue armi segrete. Usale saggiamente per raggiungere i tuoi obiettivi. Non dimenticare di celebrare i tuoi successi e dimostrare gratitudine per le opportunità che ti vengono offerte. Le emozioni domineranno questa giornata, rendendo essenziale evitare malintesi protratti nel tempo. Potreste anche fare un incontro particolare che arricchirà la vostra esperienza emotiva. La vostra curiosità è un elemento vitale che vi spinge a imparare e a crescere. Tuttavia, valutate sempre se è davvero necessario approfondire determinate informazioni. La moderazione e la saggezza nell'acquisizione di nuove conoscenze saranno essenziali. Segno Toro. Oggi è una giornata perfetta per concentrarti sulla tua stabilità e sul tuo benessere. La tua determinazione e la tua pazienza ti aiuteranno ad affrontare le sfide con calma e serenità. Approfitta di questo momento per mettere ordine nelle tue finanze e pianificare con cura il tuo futuro. Sii fermo nelle tue decisioni e non lasciarti influenzare da opinioni esterne. La tua forza interiore ti guiderà verso le scelte giuste. Dedica tempo alle persone che ami e rafforza i legami affettivi con gesti di affetto sinceri. La tua capacità di creare un ambiente armonioso sarà apprezzata da chi ti circonda. Ricorda di prenderti cura di te stesso, concedendoti momenti di relax e piacere. La tua forza e determinazione ti porteranno lontano, quindi continua a credere in te stesso e nei tuoi sogni. La vostra presenza e propositività in amore vi porteranno grandi soddisfazioni. In ambito professionale, però, potrebbe essere necessario adottare un atteggiamento più severo e rigoroso per raggiungere i vostri obiettivi. La malinconia potrebbe ostacolare le evoluzioni sentimentali che potrebbero fare la differenza nella vostra vita amorosa. Attenzione ai malintesi che potrebbero sorgere. Cercate di chiarire ogni dubbio per evitare conflitti. Segno gemelli. Oggi è una giornata ideale per esplorare nuove idee e mettere in pratica la tua curiosità infinita. La tua mente vivace e creativa ti permetterà di trovare soluzioni originali ai problemi che incontri. Sii aperto alle opportunità che si presentano e non temere di uscire dalla tua zona di comfort. La tua capacità di adattarti rapidamente alle situazioni ti sarà di grande aiuto. Comunica chiaramente le tue idee agli altri per creare connessioni significative. Un dialogo aperto e sincero ti porterà nuove prospettive e ti aiuterà a rafforzare i tuoi rapporti personali e professionali. Dedica tempo alle tue passioni e ai tuoi interessi, esplorando nuovi hobby o approfondendo quelli già esistenti. La tua curiosità e il desiderio di apprendere ti guideranno verso esperienze arricchenti. Ricorda di bilanciare la tua vita sociale con momenti di introspezione e riflessione. La tua energia creativa è una risorsa preziosa. Usala per costruire qualcosa di significativo e duraturo. In questo periodo, cercate di essere più accomodanti anche quando le circostanze sembrano ostili. È fondamentale in ambito sentimentale essere più aperti e disposti al dialogo. Adottate un atteggiamento di comprensione per evitare incomprensioni e conflitti. Segno cancro. Oggi è una giornata per ascoltare il tuo cuore e seguire le tue emozioni. La tua sensibilità e la tua empatia saranno particolarmente forti, permettendoti di connetterti profondamente con chi ti circonda. Sii gentile con te stesso e con gli altri, mostrando compassione e comprensione. Dedica tempo alle relazioni che sono importanti per te e rafforza i legami affettivi con gesti d'amore sinceri. La tua intuizione ti guiderà nelle decisioni importanti, quindi fidati del tuo istinto. Non temere di esprimere le tue emozioni in modo autentico. Ricorda che la tua sensibilità è una forza, non una debolezza. Prenditi del tempo per te stesso, per rilassarti e ricaricare le energie. La tua capacità di creare un ambiente accogliente e amorevole sarà apprezzata da chi ti è vicino e ti aiuterà a costruire relazioni durature e significative. Se vi trovate indecisi riguardo ad alcuni aspetti della vostra vita, prendetevi un momento per allontanarvi e osservare la situazione da un'altra prospettiva. Questo cambiamento di visuale potrebbe offrirvi nuove e preziose intuizioni. Segno Leone. Oggi, splendi e manifesta al mondo il tuo fascino e la tua autostima. Abbi fiducia nelle tue capacità e non aver paura di metterti in luce. Perseguire i tuoi obiettivi con risolutezza e motiva gli altri con il tuo vigore e la tua positività. La tua generosità e il desiderio di assistere il prossimo ti procureranno immense soddisfazioni. Non esitare ad assumere il comando e una posizione di guida, sia nella sfera privata che lavorativa. La tua abilità di galvanizzare e sostenere chi ti sta vicino è una delle tue doti più pregiate. Coltiva le relazioni che ti arrecano gioia e appoggio, esprimendo gratitudine e affetto verso chi ti è accanto. Ricordati di curarti di te. Regalati pause di tranquillità e diletto. La tua vitalità e il tuo ardore sono contagiosi. Usali dunque per generare un impatto positivo nel mondo. Celebra i tuoi trionfi e apprezza i tuoi progressi. La tua sicurezza e tenacia ti condurranno lontano. Perciò persisti nel credere in te e nei tuoi sogni. Il campo sentimentale sarà ricco di situazioni positive, sebbene qualche piccolo problema possa sorgere. Anche le amicizie vi riserveranno piacevoli novità, arricchendo ulteriormente le vostre giornate. Segno vergine. Oggi, applica la tua precisione e la tua abilità organizzativa. Focalizzati su compiti che esigono dettaglio e meticolosità, senza lasciare nulla al caso. Sfrutta la tua mente analitica per risolvere problemi in maniera efficace e scrupolosa. Sii indulgente con te stesso e non cercare l'eccessiva perfezione. Riconosci che ogni piccolo passo avanti è un avanzamento. Noi tutti crediamo in te. Non mollare mai. Le stelle vi sorridono sia in ambito sentimentale che professionale. Tuttavia, non adagiatevi sugli allori. Continuate a lottare per ottenere risultati significativi e non smettete mai di impegnarvi. Riscoprire il romanticismo sarà un gioco da ragazzi per voi. Abbandonando temporaneamente la vostra consueta aura di freddezza, potrete vivere momenti di passione. Lasciatevi andare e godetevi l'intimità ritrovata. La giornata sarà caratterizzata da un forte desiderio di comunicare e di risolvere questioni in sospeso. Sarete più assertivi e decisi nelle vostre interazioni. Sarà un buon momento per chiarire malintesi o per esprimere i vostri pensieri in modo chiaro e diretto. Mantenete comunque un atteggiamento diplomatico per evitare conflitti. Segno bilancia. Oggi, ricerca l'equilibrio e la concordia nella tua vita. Media tra le varie dimensioni dell'esistenza e sii disponibile a trovare compromessi nelle dispute che potrebbero emergere. Nutri le relazioni che ti infondono gioia e pace, mostrando amore e riconoscenza verso chi ti è vicino. La tua capacità di comprendere entrambi gli aspetti di una situazione ti aiuterà a raggiungere soluzioni che accontentino tutti. Impegna te stesso a creare un'atmosfera armoniosa, sia a casa sia al lavoro. Concediti del tempo per riflettere e meditare, trovando il tuo equilibrio interiore. La tua indole diplomatica e il tuo anelito di pace ti orienteranno nelle interazioni quotidiane. Sii aperto al confronto e alla sinergia, sempre mirando a costruire ponti e rafforzare i legami. Ricorda che mantenere un equilibrio tra dare e ricevere è cruciale per una vita appagante e armoniosa. La tua capacità di generare armonia e bellezza intorno a te è una tua potente virtù. Usala per migliorare il mondo. Temperate il vostro istinto. Mantenete la vostra determinazione, ma riflettete attentamente prima di prendere decisioni importanti. La ponderatezza sarà la vostra migliore alleata in questo periodo. Segno Scorpione. Oggi, immergiti nella tua interiorità e nelle relazioni con gli altri. Indaga le tue emozioni più nascoste e tenta di capire meglio i tuoi desideri e timori. Affronta la verità con coraggio, anche se scomoda. Utilizza la tua forza interiore e la tua determinazione per superare gli ostacoli sul tuo cammino. Sii sincero e aperto nelle tue relazioni, forgiando legami fondati sulla fiducia e sull'intimità emotiva. Ricorda che la crescita personale è un percorso senza fine e che ogni passo verso la conoscenza di te stesso ti avvicina alla tua vera essenza. In amore, sforzatevi di essere più permissivi e collaborativi. Sul lavoro, mantenete alta la guardia. Non tutti coloro che vi circondano sono sinceri. La prudenza vi aiuterà a evitare spiacevoli sorprese. Il settore sentimentale potrebbe deludervi, facendovi preferire la cura di voi stessi piuttosto che dedicarvi a persone che non apprezzano i vostri sforzi. Concentratevi su ciò che vi fa sentire realizzati e felici. Segno sagittario. Oggi, è il momento di esplorare nuovi orizzonti e di abbracciare l'avventura. Sfrutta il tuo innato ottimismo e la tua indole libera per affrontare le sfide con coraggio e risolutezza. Non esitare a spingerti oltre i limiti e a inseguire ciò che ti appassiona profondamente. Trova l'ispirazione in esperienze che ti spingono oltre ciò che conosci e non smettere mai di cercare conoscenza e sviluppo personale. Apriti alle possibilità che si presentano e lascia che la tua intuizione ti guidi. Preparatevi per una giornata dinamica e stimolante. Si accenderà il vostro spirito avventuroso e la vostra voglia di esplorare nuovi orizzonti. Sarete particolarmente curiosi e desiderosi di apprendere. Questo è un ottimo momento per iniziare un nuovo corso di studio o per intraprendere un viaggio. Tuttavia, fate attenzione a non disperdere le vostre energie in troppe direzioni diverse. La pazienza non è il vostro forte, ma in questo periodo sarà indispensabile. Un cambiamento potrebbe essere all'orizzonte nel campo lavorativo. Adottate un approccio calmo e strategico per affrontarlo al meglio. Segno capricorno. Oggi, focalizzati sull'impegno e sulla disciplina per conseguire i tuoi traguardi. Metti in campo la tua tenacia e costanza per superare gli ostacoli che incontri. Sii metodico nei tuoi progetti e mantieni ben chiaro il tuo obiettivo a lungo termine. Investi del tempo nelle relazioni che per te hanno valore e mostra riconoscenza per il sostegno che gli altri ti offrono. Ricorda che il successo arride a chi è perseverante e lavora con dedizione e sforzo. Arriverà una ventata di novità nel vostro ambiente lavorativo. Sarete più intraprendenti e desiderosi di innovare. Potreste ricevere nuove proposte o idee che stimoleranno la vostra creatività. È il momento giusto per mettervi in gioco e dimostrare il vostro valore. Non dimenticate di prendere delle pause per evitare il burnout. Siate più flessibili in amore. Talvolta, scendere a compromessi è necessario per mantenere l'armonia nella relazione. Impegnatevi a trovare un equilibrio che soddisfi entrambe le parti. Vivrete momenti piacevoli con le amicizie più strette, ma con il partner potrebbero sorgere gelosie che dovrete affrontare da soli. Sarete particolarmente selettivi nei rapporti familiari, cercando di mantenere equilibrio e armonia. Segno acquario. Oggi, esprimi la tua originalità e la tua prospettiva distintiva. Accogli idee innovative e non aver timore di pensare in modo non convenzionale. Alimenta la tua creatività e sperimenta nuove vie di espressione. Coltiva i rapporti che ti stimolano e ti spronano a essere te stesso. Sii genuino nelle tue interazioni e mostra al mondo chi sai veramente. Ricorda che la diversità è una risorsa e che il tuo contributo singolare è inestimabile. È anche giunto il momento di manifestare ciò che hai nel cuore. La giornata sarà caratterizzata da un aumento dell'energia mentale e della curiosità. La congiunzione Luna-Marte in gemelli vi spronerà a esplorare nuovi interessi e a fare nuove connessioni. Sarete particolarmente creativi e originali nelle vostre idee. Tuttavia, fate attenzione a non sovraccaricarvi di impegni. Prendetevi del tempo per rilassarvi e riflettere. Se avete a cuore qualcosa o qualcuno, non desistete. Superate le apparenze e cercate di andare oltre per comprendere la vera essenza delle cose. La perseveranza vi porterà al successo. Avrete un atteggiamento schivo e freddo, sia con il partner che con la famiglia. Un'amicizia potrebbe riuscire a farvi aprire, ma sarà una situazione passeggera e soggetta a rapidi cambiamenti. Segno pesci. Oggi, entra in contatto con le tue emozioni e segui ciò che il tuo cuore ti suggerisce. Ascolta la tua voce interiore e fai affidamento sulla tua sensibilità per orientarti nel tuo percorso. Tratta te stesso e gli altri con gentilezza, mostrando empatia e comprensione. Dedica del tempo alla riflessione e alla meditazione per ritrovare il tuo equilibrio interiore. Esplora le tue inclinazioni creative e trova il modo di esprimere la tua emotività in maniera autentica. Sii disponibile a creare legami profondi e cura le relazioni che ti nutrono emotivamente. Ricorda che la tua capacità di sognare e di connetterti con il mondo circostante è una tua dote inestimabile. Dovete concentrarvi sulle vostre risorse finanziarie e materiali. Sarete più intraprendenti nel cercare nuove opportunità di guadagno o nel gestire i vostri risparmi. Tuttavia, è importante riflettere bene prima di prendere decisioni importanti. Usate la vostra naturale intuizione per fare scelte sagge e ponderate. Questo è il momento di cogliere al volo le opportunità che si presenteranno. Inizio di giornata sfavillante. Approfittatene al massimo. La fortuna è dalla vostra parte. Fatevi trovare pronti.